Ciao a tutti, in questo video voglio parlarvi del colore di alcuni cristalli e di un fenomeno particolare che mi è capitato proprio utilizzando i semicristalli di questa collana. Allora, questa è una delle ultime collane che ho realizzato, le perle già le avevate viste, no, la murrina avevate visto, mentre le perle che ci ho fatto non le avete mai viste, ve le faccio vedere più da vicino. Sono carine, mi piace soprattutto il colore. Niente, allora, questa collana è stata rifatta due volte, perché una volta, la prima volta, l'avevo montata con delle perle, cioè con dei semicristalli, che mi hanno fatto un giochino di colore particolare. Allora, voi adesso la vedete già montata con i cristalli, tra virgolette, che vanno bene, però all'inizio l'avevo montata con questi semicristalli qui. Allora, voi direte, vi chiederete, cosa hanno che non va questi semicristalli, visto che sono identici a quest'altri, allora questi semicristalli, illuminati da una luce bianca, come può essere quella che utilizzo in genere per studiare, che quindi ho sulla mia scrivania, mostrano questa colorazione azzurra. Se invece io adesso li andrò ad illuminare con una lampadina che invece dà più sul colore giallo-arancio, questi diventeranno di un altro colore. Adesso io ve la faccio vedere. Quindi spengo la lampadina bianca e accendo la lampadina gialla. Come vedete, i semicristalli sono diventati lilla, viola, mentre i semicristalli nuovi che ho comprato sono ancora azzurri. Si vede nettamente la differenza, ve le faccio vedere anche partitando questi che ho qua dentro. Guardate la differenza di colore, vedete? Ovviamente non tutti i semicristalli fanno questo particolare effetto, evidentemente questi sono di un colore un po' strano, un po' particolare, ed illuminate quindi anche alla luce del sole, cioè quindi alla luce del giorno sono viola, quindi effettivamente questi semicristalli qui non sono azzurri come pensavo che fossero quando li ho comprati al negozio, perché anche al negozio avevano delle luci molto bianche e quindi apparivano azzurri. Non sono azzurri, ma sono quindi viola. Queste perle qui che ho fatto nuove, stonavano parecchio, quindi quando ho montato la collana in cameretta dove ho questa luce bianca tutto andava bene, perché era tutto bello abbinato. Poi quando l'ho vista in salone, o comunque alla luce del giorno, in salone ho una lampadina che dà più sul giallo, praticamente la collana era tutta stonata di colori, perché comunque questo abbinamento non mi piaceva, e quindi l'ho dovuta smontare e montarla con i nuovi cristalli che ho comprato, e quindi questi qua, questi qui azzurri. Quindi da questa cosa che è comunque successa a me, ho pensato di fare un video proprio per farvelo vedere anche a voi, in modo tale che magari potete stare attente quando comprate i cristalli, ecco, anche io la prossima volta che comprerò di semi cristalli, insomma, mi assicurerò che siano del colore che voglio e non mi facciano sorprese, insomma, alla luce del giorno. E niente, io con questo video vi saluto e ci sentiamo al prossimo. Ciao ciao!